Il 4 luglio in Via Dante, la via che collega a Milano, Piazza del Duomo e Largo i Cairoli, è possibile assistere a questa mostra a cielo aperto, mostra che mette, appunto ritrae, ospiti, operatori e volontari della Fondazione Sacra Famiglia Onlus, fondazione che da 120 anni si prende cura delle fragilità e delle persone con disabilità complesse. Negli scatti di Margherita Lazzati viene raccontata appunto una realtà diversa, vista attraverso gli occhi e le vite degli ultimi, delle persone più fragili, ma anche, dicevamo, degli operatori e dei volontari che tutti i giorni li aiutano e li assistono. Come vedete sono scatti di vita quotidiana, sono scatti appunto del lavoro giornaliero di queste persone, 24 in totale, proprio nell'anno in cui il Giubileo della Misericordia, indicato Cesano Boscone, sede della Sacra Famiglia, come chiesa giubilare della Diocesi di Milano. Quindi una mostra a cielo aperto, davvero da non perdere. Termina qui il nostro video.